14 dicembre 2021, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, il mio Gesù vi ama, ma non vi dimenticate. Egli è il giusto giudice che darà a ciascuno la ricompensa secondo il suo comportamento in questa vita. Egli separerà il grano dalla zizzania. Non entreranno nel suo santuario eterno quelli che seminano la mezza verità causando cecità spirituale in molti dei miei poveri figli. State attenti a non essere ingannati. I traditori della fede agiranno e confonderanno molti. Rimanete con Gesù. Amate e difendete la verità. Accogliete il Vangelo del mio Gesù e ascoltate gli insegnamenti del vero Magistero della sua Chiesa. Sono la vostra Madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. Pregate, pregate, pregate. Solamente con la forza della preghiera potete raggiungere la vittoria. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie a tutti